Giornata da ricordare per il team di Grimaldi Lines, la compagnia di navigazione leader nel trasporto marittimo. Oggi è stata inaugurata infatti con un'elegante conferenza stampa la nuova tratta da Civitavecchia Olbia. Dunque la Sardegna è ancora più vicina. Con il nuovo collegamento giornaliero la mobilità di passeggeri e merci sarà garantita durante tutto l'anno attraverso la recente acquisizione della Cruis Olbia, totalmente rinnovata dalla compagnia con un investimento complessivo di 70 milioni di euro. Si sa il porto di Civitavecchia da sempre è la base strategica dei nostri collegamenti nel Mediterraneo, ha ricordato Guido Grimaldi, direttore commerciale del gruppo Grimaldi, durante la cerimonia inaugurale alla presenza del commissario dell'autorità portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta Pasqualino Monti. Oggi vogliamo rafforzarci su una rotta storicamente primaria per i collegamenti con la Sardegna, ha poi aggiunto. Ma cosa rende la Grimaldi Lines competitiva e vincente rispetto alle altre compagnie? Le politiche adottate l'anno precedente non ne sono a conoscenza, probabilmente le immagino, ma sono delle politiche che sicuramente non hanno favorito l'interscambio dal continente verso la regione Sarda. Oggi la Sardegna con tutti i suoi massimi esponenti e quindi voglio dire con il presidente della regione, l'assessore e tutti hanno credo posto un cenno di merito verso quello che il gruppo Grimaldi sta facendo. Ma il progetto di espansione sulla destinazione Sardegna non finisce certo qui. Questo è solo l'inizio. Sicuramente quello che posso dire oggi abbiamo fatto talmente tanto che credo dobbiamo iniziare a cogliere un po' i frutti di tutto quello che abbiamo fatto. Siamo molto concentrati verso le autostrade del mare, del Mediterraneo, in particolar modo verso le linee di cabotaggio nazionale, come possono essere appunto le nuove linee instaurate verso la Sardegna. Quindi diciamo sicuramente ci sarà molta Spagna, molta Sardegna, molta Sicilia e molta Grecia.